abbiamo lavorato tanto in queste queste settimane abbiamo approfittato della sosta per aumentare i carichi di lavoro sicuramente si abbasseranno diventeranno più come preparazione alla partita affrontare l'avversario per fortuna poi è finito anche il mercato quindi siamo questi qui e ora siamo sicuramente tutti più concentrati sul sul campionato no noi pensavamo di rimanere questi che siamo che siamo adesso sicuramente poi se fosse andato via qualcuno sicuramente ci sarebbe stato bisogno di qualche innesto però siamo siamo contenti di essere rimasti questi qui era questa l'idea che c'eravamo fatti tutti sì ho visto degli spezzoni di partita sono quelli l'anno scorso bella squadra organizzata corrono tanto e molto offensivi una bella scuola davvero i zero punti sicuramente ingannano perché hanno giocato davvero molto bene e quindi sarà una partita molto difficile pausa sicuramente ci ha servito perché comunque abbiamo abbiamo caricato molto molto sì abbiamo delle partite non facili soprattutto le le prossime due ma non ha senso fare calcoli alla lunga tanto pensiamo all'atalanta se pensiamo partita per partita possiamo prendere punti con chiunque se poi facciamo dei calcoli più ampi sicuramente più difficile sicuramente l'obiettivo è di dare continuità di non fermarsi più come come l'anno scorso sta a noi sta a noi dobbiamo essere bravi noi intelligenti e interpretare questo nuovo modo di giocare abbiamo più libertà quindi sicuramente dobbiamo dobbiamo abituarci perché le partite che abbiamo affrontato abbiamo avuto delle difficoltà sicuramente però comunque non è che abbiamo fatto chissà che partite disastrose comunque pure al torino si abbiamo sofferto i primi 20 minuti però comunque poi fino al gol di bellotti l'abbiamo messi lì ha fatto un euro goal bravo lui e io grazie a tutti